Erano stati indagati dall'antimafia per minaccia nei confronti del sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Ieri quattro componenti del Cramarotta Cerasuro sono stati condannati complessivamente a quattro anni e dieci mesi di reclusione. La curiosità, il primo cittadino a distanza di qualche mese da quella denuncia, è stato poi lui stesso indagato per aver stretto patti con la famiglia degli zingari. Così il cerchio si sarebbe chiuso secondo l'antimafia. Di fatti l'aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una violazione del patto, ma è ancora tutto a livello di sola ipotesi investigativa. I quattro avevano avanzato tutti richiesta di abbreviato. Ieri il GUP Vincenzo Pellegrino ha condannato Antonio Dolce ad un anno e sei mesi, Vito Marotta del 1983 a sei mesi di reclusione, Vito Marotta del 92, Vito Marotta del 90 alle pene rispettivamente di un anno e dieci mesi per il primo sospesa, Enzo Cerasuro ad un anno e sei mesi. Il GUP può riconoscendo loro le minacce a pubblico ufficiale, non ha però riconosciuto loro l'aggravante del metodo mafioso. Dovranno comunque risarcire per danni l'amministrazione comunale e la quantificazione spetterà al giudice civile e pagare 2.225 euro la parte offesa. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati per Luigi Spadafora, Antonio Mondello e Leopoldo Catena. L'11 luglio scorso alcuni indagati occuparono le stanze riservate del primo cittadino del comune di Agropoli, forzando la porta di accesso all'anticamera, pretendendo di parlare con il primo cittadino e minacciandola affinché concedesse posti di lavoro fissi. In particolare, al rifiuto del sindaco di incontrarli dopo aver scardinato la porta, il gruppo comunicò le proprie volontà, ovvero di aver deciso unitamente ai propri familiari, di voler rinunciare ai contributi già ottenuti in cambio di almeno 8-9 posti di lavoro fissi. In caso contrario, scrisse Coppola nella denuncia, il gruppo non avrebbe chiesto più nulla, ma si sarebbe regolato di conseguenza. Dopo questo episodio, il primo cittadino si rivolse ai carabinieri.